continuiamo con le riprese fatte col cellulare arrangiate era venuto qui per fare una scampagnata ma c'è poco da fare scampagnata qui a guidonia video solari e video sorvegliata forse non lo so in che modo viene sorvegliata però insomma io spero di non farmi male scendo dalla bici perché no mi faccio male veramente ma vedete esattamente quello che abbiamo vasche da bagno di tutto insomma poi andremo a vedere abbiamo anche una moneta una moneta che sembra non lo so poi la vedremo è una moneta andiamo andiamo avanti andiamo a vedere quello che troviamo qui piano piano siamo sotto al ponte della romanaguina parco dell'inviolata più che inviolato sembra proprio stuprato questo parco ecco abbiamo videocassette amianto ecco qua questo sono serbatoi di amianto amianto che vede neanche rotto quindi manda nell'aria nel terreno situazioni altamente cancerogene ma qui è veramente prezioso guardate qui c'è da rimanere veramente questo è guidonia montecelio il comune se non si vedono il marcio c'è lo stesso anche se non si vede perché questo schifo va comunque nel terreno e comunque queste sono zone anche di parchi mi sembra guardate che fa il parco amianto questa è una discarica di amianto a cielo aperto nessuno fa nulla e qui abbiamo le nostre belle coltivazioni praticamente a un metro questo che sia coltivato qua non lo so io per oggi sono pago qui bisogna venire innanzitutto non da soli e poi bisogna venire comunque attrezzati anche meglio però credo che credo che un po si è capito no dove siamo guidonia montecelio cavalca via schifezza totale ma non solo qui